essere europei oggi significa dimenticare andare oltre la paura noi dobbiamo ritrovare lo spirito europeo che è fatto di cultura di formazione di ricerca di grandi valori valori importanti per l'uomo che in europa sono sempre stati portati avanti la parità fra uomo e donna alla difesa di coloro che sono in difficoltà quindi questo è il grosso spirito europeo in questa direzione va anche la difesa del nostro pianeta e quindi tutto quello che possiamo fare per la sostenibilità in europa è nato un movimento da una sedicenne che è greta e questo movimento deve darci una spinta in più per lavorare sulla sostenibilità che è una sostenibilità che riguarda sia l'ambiente che l'economia che tutti gli aspetti legati al clima deve essere un punto comune dell'europa non un fattore di divisione